Le suore sembrano grandi farfalle, nel buio dei corridoi si agitano come una lugubre promessa. I volti svelano la loro sterilità, mele verdi lasciate ammarcire sul terreno, mele verdi come il verme di una castità saziata. Dissi a suor Clara, voi dite che il vostro Dio è giusto, perché allora la tortura dei bambini è dei giusti? A causa del peccato originale, rispose. Dissi a suor Clara, perché Adamo fu creato, visto che Dio sapeva prima che avrebbe peccato? Questo è un problema filosofico, chieda al nostro sacerdote. Così suor Clara. Dissi a suor Giovanna, ti amo. Se è vero lo dirò alla madre superiore. No, non è vero, dissi. Così. Cosa Grazie a tutti.